La birra è una bevanda antichissima, gustosa, energetica, dissetante, composta da acqua, cereali, luppolo e lieviti. Ma può essere consumata da tutti? Può essere consumata in quantità libere o ci sono delle limitazioni per delle possibili controindicazioni? Noi ne parliamo nella prossima puntata del Gusto della Salute in programma venerdì 10 marzo alle ore 15.